Verso i 14 anni, entrai in contatto con un gruppo che cantava i successi dell'epoca, con cui debuttai in un paese in Sicilia, in una festa della matricola. Insomma, in qualche modo la mia strada di cantante era cominciata. Dedicato solo a me, ma qualcosa brucia ancora, brucia ancora, la presenza tua è signora, mia signora. Scudo protettivo contro il ricordo radioattivo, pronto a sorprendermi.